Quante e quali sono le misure nazionali e regionali a favore delle imprese, soprattutto della fascia appenninica? A spiegarlo ieri al Teatro Ottalia, nel centro storico di Gualdotadino, l'amministrazione gualdese che insieme agli altri municipi della fascia, oltre a Gualdotadino anche Gubbio, Fossato di Vico, Costacciaro, Sigillo, Schegge Pascelupo e Valfabbrica, tra i più fonestati in Umbria dalla crisi economica, ha illustrato gli incentivi per il rilancio economico del territorio. Sul tavolo dei relatori l'assessore regionale allo sviluppo economico Fabio Paparelli, il presidente della prima commissione regionale Andras Macchi, il coordinatore della regione Umbria del settore imprese e lavoro Luigi Rossetti ed ovviamente il sindaco Massimiliano Presciutti. Abbiamo voluto dare un'opportunità alle imprese, ai professionisti che insistono su tutto il vasto territorio della fascia appenninica di avere un confronto costruttivo con i tecnici, quindi non un'iniziativa politica ma un'iniziativa assolutamente tecnica per far sì che le risorse che da domani, tra l'altro, dal primo giugno, saranno a disposizione e in appositi bandi possano essere attratte e portare valore aggiunto a tutto il tessuto produttivo di questo territorio. È una sfida difficile ma dobbiamo per forza giocarla se vogliamo guardare al futuro. Dobbiamo saper tenere insieme la piccola, la media, la grande industria ma anche chi vive della propria singola professione. Credo che questo deve essere un obiettivo comune che credo questa sera abbia avuto una testimonianza vista anche la presenza di tanti liberi professionisti. Voglio ribadire questo, con i colleghi di tutta la fascia c'è un ottimo rapporto, non stiamo a guardare la nostra estrazione e la nostra appartenenza politica, stiamo a guardare quello che possiamo fare per questo territorio insieme. Questo credo che sia la grande novità rispetto al passato che io mi auguro e spero possa consentirci di arrivare in tempi brevi a dei risultati tangenti.